Io sono nato e vinse nel Veneto, 1939, sono entrato nell'opera Don Orione, ancora giovinetto, e nel 1976 il Patriarca Luciani mi invita a fargli da segretario. Ho accettato, quindi sono stato vicino due anni e due mesi, dal luglio del 1976 alla di lui morte, fine settembre del 1978. Non volevo un segretario ombra, mi ha dato degli incarichi ben precisi, direi di natura modesta, familiare e quotidiana. Sono stato con lì all'appartamento privato del Vaticano, poco più di un mese, alla fine della sua esistenza terrena, sono tornato nell'opera Don Orione, prendendo le attività noi consone, scuole, istituti, case di carità, a Milano il piccolo cotolengo è molto famoso, è stato aperto oltre 70 anni fa. Ho avuto la fortuna di lavorare anche nelle missioni dell'opera nostra, nelle Filippine soprattutto, ma anche per un tempo abbastanza breve in Africa e, devo anche aggiungerlo ultimamente, in India. Che messaggio ha lasciato a me, Papa Luciani, e a tutta l'umanità intera? E' riassunto nella frase che è stata riportata vicino a quello stiacciato all'inizio, all'ingresso della Chiesa. Lo ricordo, Dio ha verso ciascuno di noi un amore intramontabile. punto. Sappiamo, veglia su di noi anche quando sembra che sia notte, punto. E papà, di più ancora, è madre. Di nuovo, cosa c'è? Direi ben poco. Gesù ha detto, nell'ultima cena, chi mi ama, dice Gesù Cristo, sarà amato dal Padre mio. E poi ancora, chi non mi ama, non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Allora, prima riflessione su Luciani. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. C'è anche un'altra circostanza che voglio menzionare. Sta visitando, era vescovo di Vittorio Veneto, una casa per anziani. Vede sul tavolino di una signora anziana delle foto e dice, signora, chi sono queste creature riportate? La signora dice, siamo negli anni 50, due miei figli dispersi o morti in guerra. Poi dice, ho altre foto di miei figli e di miei nipoti. Luciani commenta, signora, l'è in fondo coraggio e fede. Dio ha davanti a sé, a mo' di tavolo, tutte le nostre foto. Non c'erano ancora i DVD. Per cui dice, Dio continua a osservare tutti noi. Siamo a sei miliardi, per Dio il numero non conta. Per Luciani il Dio vicino era quello a cui ho fatto riferimento. Non dimentichiamoci che Dio non è palpabile, visibile, sperimentabile, non è neanche adattabile, non è neanche fruibile come noi vorremmo a questa doppia immagine di padre e di madre. Chi ha avuto figli sa cosa vuol dire, chi è figlio sa cosa vuol dire avere vicino a sé il padre e la madre, e anche il nonno e la nonna. La nostra fede è qua. Credere di un'esistenza di cui non percepiamo la consistenza, la massività quasi, per esprimermi, ma è qualche cosa, qualche d'uno, quello come oriuscola, sullo quale possiamo e dobbiamo puntare e confidare. Autore dei sottotitoli